Musica non sta dietro a Renzo stamattina se qualche cagata la combina sicuro se gli dai fiducia fai di quei lavori è tutto lì la messa a posta la legge deve far passare dentro eh sì eh di là sì io sì è tutto lì 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 se gli dai fiducia è esagerata è solo un montese che può fare un lavoro del genere è bello che è partita